Bentornati amici di Fight4Yours, ho finito poco fa la telecronaca di Bellator 282, telecronaca fatta ovviamente su Mola dove si potrà recuperare anche l'evento eventualmente on demand se non l'avete visto in diretta e in ogni caso sia in diretta che on demand gratis, telecronaca effettuata con il mio collega Marco Ghironi, una card assolutamente fantastica dall'inizio alla fine ma in particolare voglio concentrarmi sul main event in cui c'è stato un upset importantissimo da parte di Johnny Eblen che ha battuto Gegard Nussassi ed è diventato il nuovo campione presi me di Bellator e non è soltanto il fatto che Johnny Eblen abbia vinto ma è il come ha vinto, il match non è mai stato competitivo, 50-45 la vittoria per decisione unanime di Johnny Eblen sui cartellini di tutti e tre i giudici assolutamente dominato l'ormai ex campione Gegard Nussassi, la leggenda che andava alla ricerca della sua cinquantesima vittoria in carriera un risultato clamoroso ovviamente, la sconfitta non toglie nulla al curriculum di Nussassi ma di certo questa vittoria aggiunge tantissimo al curriculum di Johnny Eblen che al dodicesimo match in carriera è già campione presi me di Bellator e soprattutto lo è diventato battendo una leggenda tra le più grandi nella storia delle mixed martial arts come quella di Gegard Nussassi vedremo adesso quale sarà il prossimo passo per entriambi, in contemporanea fra l'altro con Bellator 282 c'è stato anche il quinto appuntamento con la regular season della PFL commentato fra l'altro dall'altro admin di Fight4Yobs che è mio fratello Davide, l'avete visto se avete visto le nostre interviste realizzate a Nicolo Solli e Dylan Azan e appunto ho commentato questo quinto appuntamento della regular season della PFL insieme a Manolo Chirico un appuntamento che riguardava le categorie pesi più ma pesi massimi e anche la chiusura nella categoria pesi leggeri con il match fra Anthony Pettis e Stevie Ray anche lì una grande serata di mixed martial arts con degli ottimi risultati, degli ottimi match, anche degli upset in realtà e anche in questo caso potete recuperarlo anche on demand sempre su Mola e sempre gratuitamente domani fra l'altro tornerò io al commento sempre insieme a Marco Ghironi di Cage Warriors 140 che comincerà a partire dalle 20.30 con la card preliminare e poi ovviamente ci sarà la main card questo video come dicevo era principalmente per raccontarvi dell'upset clamoroso di Johnny Eblen che ha dominato Gegard Mousasi e non è stato tanto un upset di per sé per il risultato che comunque si potrebbe considerare tale ma per come questo risultato è maturato cioè veramente con un dominio clamoroso dall'inizio alla fine di Johnny Eblen che è anche riuscito a mettere in serissima difficoltà Mousasi dal punto di vista dello striking mettendo a segno anche un knockdown subito nel primo round Johnny Eblen che veramente si è dimostrato prontissimo, si è dimostrato migliore di Gagar Mousasi in questa serata e si è guadagnato il titolo di campione pesi medi Bellator iscrivetevi al canale, lasciate un like al video, fateci sapere se avete visto le card e che cosa ne pensate e ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi!